Questa enfasi riformatrice, l'idea che siamo dentro una rivoluzione funziona molto dentro i canali del conformismo mediatico, ma la realtà dice che l'Italia sta continuando a soffrire pesantemente, che la riforma elettorale non è in cima ai pensieri degli italiani, che in cima ai pensieri degli italiani c'è la paura della disoccupazione e della povertà. Quindi credo che chi di pubblicità ferisce rischia molto, rischia di perire di pubblicità capovolta, quando la realtà busserà alla porta di Palazzo Chigi.